Eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e con una vera e propria tragedia avvenuta in mare, sei rifugiati siriani, due bambini di uno e due anni, un adolescente e tre adulti sono morti su un barcone presumibilmente di fame e di sete. Lo afferma l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sottolineando che l'Agenzia sta assistendo i 26 sopravvissuti sbarcati a Pozzallo, molti dei quali presentano condizioni estremamente gravi, tra cui ustioni. Le vittime e i sopravvissuti, spiega l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, si trovavano su un barcone alla deriva da diversi giorni nel Mediterraneo centrale, prima che a soccorrerli arrivasse una nave della Guardia Costiera italiana. Cambiamo argomento, ci spostiamo adesso a Messina, parliamo di controlli da parte della Polizia, sono stati effettuati degli arresti ma anche delle denunce e ovviamente sono scattate delle sanzioni. I poliziotti delle volanti sono stati impegnati nella consueta e attenta attività di controllo del territorio. Nei giorni scorsi sono state sottoposte a controllo 579 persone e 225 autovetture. Elevate 12 sanzioni ai sensi del Codice della Strada, delle quali 5 hanno comportato anche il sequestro amministrativo del relativo mezzo. Le sanzioni elevate, specialmente per guida senza assicurazione e mancata revisione, ammontano a circa 10.000 euro. Le volanti hanno inoltre proceduto all'arresto in flagranza di un 49enne messinese per violazione del divietto di avvicinamento alla persona offesa e alla denuncia all'autorità giudiziaria di sei soggetti che si sono resi responsabili di diversi reati, tra cui minacce, lesioni e ricettazione. Denunciati inoltre per porto abusivo di oggetti atti a offendere, in distinte occasioni, due diversi individui trovati in possesso di coltelli e per lo stesso reato una donna che teneva un paio di forbici in tasca senza giustificato motivo. Infine, negli ultimi giorni, i poliziotti delle volanti hanno segnalato alla competente autorità amministrativa cinque persone che in diverse occasioni sono state trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Controlli sono stati effettuati anche a Pantelleria da parte dei carabinieri del NAS di Palermo con il supporto dei colleghi della locale stazione NAS che hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di diverse attività commerciali sull'isola di Pantelleria e precisamente un laboratorio di analisi, quattro farmacie, tre villaggi turistici e un ristorante. Sono state accertate diverse violazioni, due farmacie ad esempio presentavano delle irregolarità nel registro di entrata e uscita degli stupefacenti. Per i responsabili è pertanto scattata una sanzione pari a 500 euro. In due hotel a villaggio invece sono state riscontrate carenze igieniche e strutturali per le quali sono scattate una sanzione di 1000 euro e la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani. Le controlli sono avvenuti anche a Siracusa e Ortigia nel mirino locali notturni ma non solo anche in questo caso sono scattate delle sanzioni. Tutti i dettagli nel servizio. Gli agenti della divisione di polizia amministrativa della questura di Siracusa hanno effettuato numerose verifiche nei locali della movida siracusana in particolar modo ad Ortigia. Particolare attenzione è stata posta nei confronti del rispetto delle autorizzazioni di polizia e delle norme igienico-sanitarie. Inoltre insieme a personale dell'ARPA i poliziotti hanno controllato l'impatto sonoro dei locali che diffondono intrattenimento musicale. In ultimo è stata verificata la regolarità di apparecchi da gioco presenti in alcuni esercizi pubblici. Due noti pub di Ortigia, nonostante avessero le autorizzazioni per l'esibizione di un gruppo musicale e la diffusione di musica, hanno superato il limite di emissioni sonore previste dalla vigente ordinanza del sindaco. In totale le sanzioni elevate ammontano a circa 5000 euro. Inoltre nei giorni scorsi la polizia ha operato dei controlli ad ampio raggio sui possessori di armi per verificare la sussistenza dei requisiti a supporto del titolo che consente di detenere un'arma. Nel corso di tali operazioni gli agenti della squadra amministrativa hanno provveduto al ritiro di quattro pistole e 14 fucili da caccia posseduti da nove soggetti che nel tempo hanno perso i requisiti previsti dalla legge. È stato inoltre sequestrato numeroso munizionamento, 107 proiettili per pistola e 83 cartucce a pallini da caccia. Restiamo nel siracusano ma ci spostiamo virtualmente a Lentini dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un pregiudicato di 52 anni in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Siracusa. L'uomo, già agli arresti domiciliari, è stato più volte segnalato all'autorità giudiziaria per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura alla quale era sottoposto. Con l'odierno provvedimento è stato disposto l'accompagnamento del 52enne presso la casa circondariale Cavadonna. Ed ora nella Catanese per la precisione a Gravina di Catania dove i carabinieri hanno arrestato un pericoloso rapinatore. Tutti i dettagli nel servizio. Su delega della procura distrettuale i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 38enne di Mister Bianco in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Catania per i reati di rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando il soggetto si è reso responsabile di una rapina a un chiosco nel comune di Tre Castagni dove avrebbe minacciato con un coltello un avventore in modo da costringere i dipendenti a farsi consegnare un pacchetto di sigarette. Lo stesso era quindi scappato a bordo di un'auto rubata venendo comunque intercettato dopo pochi minuti da una pattuglia della sezione radiomobile di Acireale mentre stava cercando di raggiungere il centro abitato di Catania. L'inseguimento durante il quale l'uomo aveva danneggiato diversi veicoli in sosta era continuato a piedi poiché il fuggitivo sentendosi ormai braccato aveva abbandonato l'auto per rifugiarsi all'interno di un bar del centro di Acireale. Qui nel tentativo di non essere catturato aveva preso in ostaggio la proprietaria minacciandola con un coltello. I militari erano comunque riusciti a mettere in salvo la donna e a bloccare l'uomo dopo una cruenta colluttazione durante la quale il rapinatore aveva ferito col coltello uno dei militari colpendolo di striscio al fianco. Al 38enne verrà contestata anche la commissione di altre due rapine. La prima ai danni di un distributore di Mister Bianco, la seconda nei confronti di una donna intenta parcheggiare in un centro commerciale della zona. Il pregiudicato è attualmente recluso presso il carcere di Gela. A Randazzo invece siamo sempre nel Catanese, un uomo viola la sorveglianza speciale, poi viene beccato dai carabinieri, sfugge in auto, alla fine viene arrestato ma ha creato non pochi problemi alle forze dell'ordine. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno arrestato in flagranza di reato per violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza un 41enne del posto pregiudicato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti e rapina. Nello specifico i militari, nell'ambito di un controllo del territorio, hanno notato per le vie del centro cittadino il 41enne alla guida di un autoveicolo, nonostante il divieto imposto dalla misura di polizia di condurre i veicoli a motore. Il tentativo dei militari di fermarlo è stato vano in quanto il pregiudicato si è dato alla fuga, durante la quale ha danneggiato alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via, per poi lasciare il veicolo incontrato a Pignatone e dileguarsi a piedi fino alla propria abitazione. Il fuggitivo ha quindi chiuso il cancello di casa alle sue spalle per impedire l'accesso ai militari e per complicare ulteriormente la loro attività ha liberato due cani di grossa taglia, due rottweiler. Tuttavia gli operanti, dopo aver persuaso alcuni familiari del sorvegliato a mettere in sicurezza i cani, sono riusciti ad accedere al giardino. Il 41enne è stato poi tratto in arresto per violazione della misura della sorveglianza speciale e per resistenza pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. A Vizzini invece la Guardia di Finanza ha scoperto e ovviamente sequestrato tre piantagioni di canapa indiana. I dettagli nel servizio. Tre piantagioni di canapa indiana nascoste in una fitta in pervia area boschiva a Vizzini sono state scoperte e sequestrate dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania. In totale c'erano oltre 1550 piante collegate tra loro da un ingegnoso impianto di irrigazione azionato a distanza. Gli arbusti, in piena fase di maturazione e alti oltre due metri, erano adeguatamente celati all'interno di un'area appositamente rimaneggiata tramite l'utilizzo di mezzi pesanti al fine di garantirne l'occultamento verso l'esterno. Inoltre a protezione dell'area era stata costruita un'apposita recinzione che impediva il passaggio agli animali. Insieme alle piante sono state sequestrate tutte le attrezzature con cimi liquidi e altri materiali utilizzati per la coltivazione. Torniamo nel Trapanese per la precisione ad erice dove i carabinieri hanno fermato un 24enne in sella un ciclomotore senza targa e dalla perquisizione personale emerso che il giovane trasportava della sostanza stupefacente. I carabinieri della sezione radiomobile, unitamente al supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un Trapanese di 24 anni. I militari operanti, nel contesto di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno bloccato in via Cosenza, nel comune di Erice, il 24enne a bordo di un ciclomotore privo di targa identificativa. Visto l'atteggiamento nervoso e impacciato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e nella sua disponibilità sono stati rinvenuti tre involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, dal peso di 7 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire abilmente occultati 90 grammi di hashish, la somma a contante di 235 euro, verosimilmente provento dell'attività illecita e materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, assunti in carico e debitamente custoditi, in attesa di essere versati presso il competente ufficio corpi di reato. L'arrestato, invece, percettore del reddito di cittadinanza, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida, che ha visto l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nel comune di Erice e il divieto di allontanamento dall'abitazione nelle ore notturne. Un agricoltore di 49 anni di Alessandria della Rocca, siamo nell'agrigentino, è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Sciacca per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento a seguito di incendio. L'uomo, infatti, che maltrattava da tempo la propria moglie, al culmine dell'ennesimo episodio di violenza, ha piccato il fuoco all'interno della loro abitazione. Stavolta, però, la donna stanca dei continui maltrattamenti subiti si è recata dai carabinieri per querelare il marito. I militari dell'arma, oltre a denunciare il 49enne, hanno attivato l'iter del Codice Rosso che mira a tutelare le donne vittime di violenza. Cambiamo argomento, adesso parliamo di Covid. Andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sono 367 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 5.003 tamponi processati. Tasso di positività al 7,3% e Sicilia al settimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 34.485, mentre stavolta non si registrano guariti né vittime. Il totale dei decessi dunque, in Sicilia ovviamente, dall'inizio della pandemia, resta di 12.161. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 288,6 in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono invece 28,1 in meno rispetto al giorno prima. Per quanto riguarda invece i dati a livello provinciale, stavolta è Catania, la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 105. Poi Palermo con 94 nuovi casi Covid, poi Messina con 46, Trapani e Ragusa con 30 e poi via via le altre province con dati molto più bassi, ad esempio Enna con appena 7 nuovi casi Covid. E prima di chiudere, una notizia di calcio. Parliamo del Palermo perché c'è un dato importante che testimonia il grande entusiasmo del popolo rosanero. Venerdì, infatti, con 23.643 spettatori, Palermo Genoa è stata la partita più vista in Serie B e la quinta partita più vista in tutta Italia, dietro soltanto a Inter, Juventus, Napoli e Lazio. Quindi parliamo di quattro big della Serie A. E sono 67.641 gli spettatori totali nelle prime tre gare casalinghe del Palermo in questo campionato di Serie B, dato, come detto, che certifica assolutamente il grande entusiasmo, il grande calore della piazza, del popolo palermitano per questa nuova avventura in Serie B, questo nuovo progetto del Palermo targato City Group e delle grandi ambizioni finalmente ritrovate. E con questa notizia ci fermiamo, per il momento è tutto, chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma l'informazione prosegue su Sicilia 24.